Domenica si sono conclusi a Tallin i campionati europei unior sede di atletica, con la medaglia d'oro della 4x4, ma con un bilancio confortante per la spedizione azzurra della quale facevano parte tre marchigiani. Bronzo a Gianmarco Tamberi, 19enne di Offagna, nella gara del salto in alto, tesserato per il club abruzzese della Bruni Pubblicità Atletica Vomano, ma che ha svolto i suoi primi passi con l'Atletica Osimo. Gianmarco è uguale al primato personale di 2,25 m, misura con la quale si era giudicato il titolo italiano un mese fa a Bressanone. Oro al russo Nikita Anishenkov, con 2,27 m, ed argento al danese Yannick Klausen, con la stessa misura di Tamberi, 2,25 m, superati però al primo tentativo. Il secondo marchigiano in ordine di classifica è lo sprinter pesarese Lorenzo Angelini, anche lui, 19enne, che coglie un ottimo quinto posto nella finale dei 200 con un tempo di 21,54. Anche Lorenzo veniva da altri colori di categoria di Bressanone e vesti i colori dell'Atletica Avis e Macerata. Il giovane pesarese si era permesso il lusso di vincere la sua semifinale. Loro è andato al britannico Bola Rinfa, con 21,07 m, per Angelini c'è poi stato ancora un quinto posto nella 4%, corsa con Galbieri, Spotti, Torto e Lorenzo in quarta frazione. Buona la prova anche di Lorenzo Veroli nei 400 d'ostacoli, che dopo aver stabilito il primato personale in batteria in 52,19, non riesce nella semifinale a chiudere in maniera efficace. Resta comunque la soddisfazione per il giovane di Montefiori di Recanati del record personale in una gara di altissimo livello.